rimanendo nell'ambito delle cerimonie vi propongo un altro progetto sempre col filato Andy di Tessiland e questa volta realizziamo un cestino la misura di questo cestino è la vostra totale scelta per aiutarvi a vedere un po' quella che può essere la forma e la misura io vi direi questa volta di procedere un po' al contrario cioè di trovarci prima il contenitore e poi di stabilire un po' quella che può essere la forma del nostro cestino perché molte volte avviamo una base alziamo il nostro progetto tipo questo qui vedete questo è un cestino che ho parzialmente soltanto nella parte di sotto inamidato la parte di su è morbida e l'avevo cominciato a fare poi effettivamente trovare una misura adatta a questa circonferenza sono impazzita cioè ho smontato mezza casa tra contenitori barattoli bicchieri cose varie per trovare una misura adatta allora onde evitare di fare questo processo infinito trovatevi prima il contenitore in questo caso un barattolino di miele finito quindi qualunque barattolo contenitore eccetera eccetera andrà più che bene quindi cosa facciamo andiamo a fare noi con l'uncinetto la forma della base tenendo presente il diametro dell'oggetto che avete scelto tanto volete grande il contenitore tanto sarà più grande la base che andrete a scegliere una volta scelta la base io vi faccio vedere su un contenitore piccolo per fare un tutorial relativamente breve però non c'è misura che tenga una volta capito il meccanismo quando avete scelto il vostro contenitore la cosa importante da fare quella di mettere della carta da cucina tutto intorno la pellicola trasparente vedete io l'ho già tutto ricoperto perché poi dobbiamo andare a lavorare con la colla vinilica e l'acqua per inamidare ed indurire il nostro cestino quindi una volta scelto il contenitore vi faccio vedere di cosa dobbiamo parlare il nostro cestino andrà indurito direttamente qui sopra quindi una volta imbevuto di acqua e colla e strezzato andrà modellato direttamente sul nostro contenitore e lasciato asciugare così quindi la pellicola indispensabile altrimenti poi vi rimane incollato al vetro quindi serve come protezione per il supporto dove ho scelto può essere anche un materiale non di vetro va bene qualunque cosa tanto poi mettiamo il cellophane quindi preso il nostro filato handy io come vi dicevo ho scelto questo cotone per tutti i miei progetti perché ne volevo fare tanti quindi ho scelto un filato che secondo me andava bene un po per tutto anello magico 6 maglie sull'uncinetto una due tre quattro cinque sei tiriamo il cappietto corto rientriamo nella prima maglia alta bassa lavorata chiudiamo con un anello magico con l'anello magico e quindi abbiamo fatto le nostre sei punti di base come sapete in questi casi si va sempre a raddoppiare il numero di maglie quindi faccio questa volta una catenella perché non procediamo in procediamo in tondo però chiudiamo ogni giro quindi non lavoriamo a spirale diciamo così perché ci serve la regolarità altrimenti si può formare una scaletta antiestetica fatti tutti e 12 punti rifacciamo la nostra catenella entriamo nel punto successivo con un punto basso poi andiamo nel secondo punto e facciamo l'aumento nuovamente un punto singolo e successivamente l'aumento è così per tutto quanto il giro chiuso il giro ripartiamo sempre con una catenella questa volta facciamo una maglia singola un'altra maglia singola e poi una maglia dopo una maglia doppia quindi un aumento entriamo cioè due volte nello stesso punto di base quindi facciamo 1 e 2 per tutto il giro quindi andremo a realizzare due maglie basse e un aumento nel giro successivo faremo invece tre maglie singole e un aumento finito il giro con tre maglie basse facciamo nuovamente la catenella e ricominciamo facendo quattro maglie basse in aumento quindi da questo momento in poi andate avanti sempre della stessa maniera aumentando cioè lo spazio tra un aumento e l'altro sempre di un punto basso siamo partiti con uno poi con due adesso tre poi faremo 4 5 6 fino ad arrivare alla circonferenza se abbiamo già scelto il nostro contenitore capace di coprire interamente questo diametro non vi dico il numero esatto di punti perché in base al filato che decidete di scegliere allo spessore probabilmente il numero di punti sarà sempre diverso allora io ho fatto il mio la mia parte la mia base il mio disco partendo dall'anello magico con 6 poi 12 maglie sono andato aumentando di 6 in 6 quindi ho fatto una maglia e un aumento 2 e un aumento 3 4 5 6 7 e 8 fino a coprire praticamente la base del mio contenitore a questo punto quando ho coperto la base quindi so che salendo prendo la forma del baratto che ho scelto per fare la forma del mio contenitore posso decidere di salire in due modi diversi o lavorando in costa oppure lavorando il punto normale allora in questo contenitore io ho lavorato la costa quindi ho lavorato lasciando questa specie di cordoncino che demarca un po meglio quella che la base rispetto al resto del del cestino però è un fatto di gusto sia che prendiate il punto intero o che prendiate soltanto una costa il risultato è lo stesso io prendo la costa perché comunque come lavoro mi piace di più dopo aver fatto il punto in costa e si è formato questo piccolo cordoncino ovviamente adesso non si vede molto l'effetto della chiusura però via via adesso smettendo appunto di fare gli aumenti vedrete che saliamo il nostro piccolo contenitore a questo punto procediamo ovviamente se state creando un coordinato con altri pezzi dovete più o meno tenere sempre sullo stesso punto adesso vi ho fatto vedere il punto in diagonale vi ho fatto vedere il punto incrociato quindi potete andare col punto che più vi piace quindi se dovete coordinarvi con i vari pezzi scegliete un punto e tenetevi più o meno su quello io approfitto di volta in volta vi faccio vedere magari anche dei punti diversi però se realizzate dei dei coordinati tutto sta magari anche a tenersi oltre che sullo stesso filato magari anche sullo stesso tipo di punto allora una volta fatta l'ultimo giro io avvio 3 catenelle mi tengo l'uncinetto così e poi cosa faccio entro nella catenella vicino all'uncinetto centro ed estraggo il filo vedete entro e tiro il filo verso di me entrò nella seconda catenella estraggo il filo e lo tengo sempre sull'uncinetto entro nel punto di base dove ho lavorato praticamente le 3 catenelle ed estraggo il filo entro nel punto successivo ed estraggo il filo entro nel punto dopo ancora questo è un multiplo di due avendo io un numero pari lo posso tranquillamente fare quindi quando ho tutte le asole sull'uncinetto le vado a chiudere tutte insieme poi presco il filo e lo chiudo a punto bassissimo piccolissimo com'è comunque si forma questo occhiello quindi ogni stella ricomincia dall'occhiello appena fatto quindi si entra nell'occhiello che questo qui si estrae il filo poi si entra praticamente in costa dietro si estrae nuovamente il filo si entra nel punto già lavorato che questo qui e si estrae nuovamente il filo più due punti nuovi quindi noi prendiamo tre punti sul lavoro sulla stella precedente e due sul perimetro di base vedete che si forma una stella attaccata a quella precedente quindi io rientro nell'occhiello vedete ce l'ho qui ed estraggo il primo filo ed estraggo il primo filo poi vado qui dietro ed estraggo il secondo filo poi entro nel punto dove ho lavorato l'ultima volta quindi un punto ci entriamo due volte vedete questo qui ci si entra due volte poi prendo due punti nuovi sulla base 1 e 2 quindi e qui in questo secondo punto dove io poi vado a rientrare la seconda volta chiudo tutte le asole insieme punto bassissimo quindi nuovamente occhiello e rientro nell'occhiello prendo il filo la prima volta prendo un punto in costa dietro rientro nella seconda delle due maglie di base dove sono già passata la prima volta e poi entro ed estraggo il filo nelle due maglie successive quindi qui che si rientra poi per la seconda volta e qui abbiamo fatto l'altro pezzettino di margherita di fiore quindi le margherite si vanno ad incastrare vedete l'una dentro l'altra poi una volta completato questo giro è chiuso appunto bassissimo andiamo a rientrare soltanto negli occhielli quindi vedete ci sono qui gli occhielli e nel giro successivo faremo soltanto delle mezze maglie per completare la margherita perché la margherita si forma con due giri complessivi quindi questo facciamo la parte di sotto del fiore poi facciamo quella di sopra quindi completate tutto il giro con questo punto una volta eseguito tutto il giro di punto margherita andiamo a fare una e due catenelle quindi chiudiamo il giro facciamo due catenelle e andiamo soltanto negli occhielli che sono questi qui questo questo vedete dove si congiungono praticamente i fili e pescando il filo entriamo in ogni occhiello e lavoriamo due mezze maglie alte quindi facciamo uscire i fili tutti insieme sull'uncinetto quindi pesco il filo entro nello stesso occhiello estraggo il filo e lavoro tutti i punti insieme poi pesco il filo vado direttamente nell'occhiello successivo e faccio la stessa cosa lavoro una maglia mezza maglia della seconda mezza maglia vedete peschiamo il filo entriamo negli occhielli lavoriamo una mezza maglia alta la seconda mezza maglia alta allora per non crearvi alcuna difficoltà ricominciamo il giro insieme poi fate tutto il resto da sole allora sono sempre 3 catenelle per ricominciare il giro entriamo nella seconda catenella peschiamo il filo entriamo nella terza catenella e poi entriamo alla base di tutte e tre le catenelle e poi abbiamo a disposizione due punti che corrispondono esattamente alle due mezze maglie che abbiamo appena fatto per concludere la stella sottostante quando abbiamo tutti quanti i punti sull'uncinetto estraiamo il filo chiudiamo con un punto bassissimo formando l'occhiello e ricominciamo all'interno dell'occhiello per poi andare praticamente qui dietro a prendere un punto il secondo il terzo lo prendiamo al secondo alla seconda mezza maglia dove siamo già entrati e poi prendiamo le due maglie successive le due mezze maglie successive una e due tutti i punti sull'uncinetto estraiamo il filo chiudiamo l'occhiello e proseguiamo in questa maniera alla chiusura di questo giro rifarete solo due catenelle entrerete in ogni occhiello con due mezze maglie poi nuovamente fate questo giro fino ad arrivare all'altezza desiderata allora io sono salita di quattro giri in totale quindi 1 2 3 4 giri di punto margherita sapendo che ogni punto è costituito da due righe quando sono arrivata nell'ultima riga ho fatto un giro di punto basso per rifinire il bordo ovviamente tenendomi sulla forma del baratto il contenitore lo calza alla perfezione però come avete già capito infatti in tanti mi avete scritto come vedete il cotone è un cotone rigido quindi un cotone che già da solo si regge abbastanza senza andarlo ad inamidare però ovviamente se noi dobbiamo mettere all'interno dei confetti eccetera eccetera inamidarlo è sempre la cosa più giusta perché almeno come contenitore questo non si va a deformare può essere quindi sia un contenitore da confetti da tavolo da credenza per un buffet eccetera eccetera così come può essere trasformato in una bomboniera mettendo il coperchio quindi mettendola confettata diciamo all'interno del contenitore stesso per quanto riguarda il coperchio per chi lo vuole fare io invece di fare un classico coperchio piatto volevo realizzare un facsimile di questo cioè un coperchio che avesse un pomellino sopra e quindi desse la praticità nell'afferrarlo quindi nell'aprire il contenitore e quindi cosa ho pensato avendo queste perline di forma uvale ho pensato di rivestire la perlina in modo che possa creare sopra una sorta di pomellino no che renda più semplice aprire il coperchietto quindi cosa ho fatto ho ripreso il mio cotone andy senza farvi rivedere nuovamente il passaggio ho rifatto l'anello magico e ho lavorato sei maglie basse nel giro successivo ho raddoppiato le maglie le ho portate a 12 e poi ho nuovamente fatto un giro da 12 come vedete si è immediatamente chiuso infatti se vado ad appoggiare sotto la perlina guardate riesco già a chiuderla sopra di essa quindi adesso farò un numero di giri sufficiente a coprire l'altezza e poi nuovamente farò le riduzioni arrivando a 6 per coprire tutta la forma in modo che questo sia totalmente rivestito e mi dia una buona consistenza in modo che il pomello si regga in piedi se scegliete un pomello rotondo vi regolate un attimino sulla forma da dare ovviamente farete meno giri questo essendo una forma allungata avremo più giri da fare qui sicuramente con una forma più tondeggiante vi basterà fare un paio di giri e poi subito i giri di riduzione quindi sono a 6 12 12 adesso faccio altri 23 giri da 12 e poi faccio la riduzione allora la perlina entrata quindi più o meno rivestito rimanendo sui 12 punti tutta quanta la perlina per quanto ci sia abbastanza stretta se io riallargo il lavoro da adesso poi rischiamo che a lungo andare la perlina venga fuori quindi lasciando la perlina all'interno perché poi se stringiamo il punto non la rimettiamo più dentro andiamo a fare un giro di soli riduzioni così da riportare nuovamente il numero dei punti da 12 a 6 quindi prendiamo i punti 2 a 2 quindi facciamo un punto prendiamo il punto successivo se vi sono bastate ovviamente 12 maglie se invece avete bisogno di fare più maglie vi regolate ovviamente sempre con un numero di riduzioni adeguato in base al numero di punti che avete quindi prendiamo il numero successivo e punto successivo estraiamo il filo e poi entriamo in quello dopo ancora quindi le maglie si lavorano a 2 a 2 in modo da ridurle giusto alla metà in questo modo noi chiudiamo questa questa apertura e garantiamo che la perlina una volta incastrata all'interno non esca più nel giro successivo andremo a rifare ovviamente subito degli aumenti perché dobbiamo immediatamente riallargare il nostro contenitore il nostro piattino per arrivare poi via via ad ottenere lo stesso diametro della base la perlina è stata rivestita quindi ho fatto questo giro di riduzione che mi hanno riportato nuovamente a 6 il numero dei punti in modo da poter chiudere perfettamente e ridurre l'apertura a questo così che la perlina da qua non fuoriesca più già nel giro successivo sono tornata nuovamente a 12 quindi ho raddoppiato il numero dei punti da questo momento in poi lavoro come si lavora normalmente in tondo allora una volta preparato il coperchio ho fatto soltanto 6 12 ho fatto un giro semplice da 12 quindi dopo che abbiamo ristretto qui per contenere la sferetta ho fatto il giro successivo da 12 quindi raddoppiando tutti i punti disponibili poi ho rifatto un giro senza aumenti e poi ho cominciato a riaumentare normalmente quindi facendo 18 24 36 e così via dicendo la larghezza la quantità di giri da fare è sempre maggiore rispetto alla base di questo perché ovviamente dobbiamo io ho fatto gli aumenti fino a qui quindi mi sembra di essere arrivata a 11 o 12 separati da una maglia doppia e poi ho fatto quattro giri senza aumenti per creare questa scalettina che va sempre un pochino ad adeguarsi alla forma del contenitore vedete l'unica cosa ovviamente poi da fare quando si va a dinamidare quando si va ad indurire se io faccio aderire troppo la forma del bordo al contenitore lo pareggio esattamente con quello del contenitore sotto quindi il coperchio poi non gli va su quindi quello che devo fare è cercare di essere più diciamo aderente possibile nella parte qui proprio del bordo qui del sottovaso e poi leggermente qui devo cercare di allargare questa operazione si fa quando dopo aver inamidato quindi dopo aver fatto la mistura di acqua e colla e si è parzialmente indurito non è completamente secco allora lo possiamo eventualmente anche togliere dal supporto rimodellare leggermente oppure lo lasciate qui e passate il dito sotto in modo da ammorbidire questa parte perché i ritocchi sono possibili fino a quando non si è totalmente asciugato quando si è asciugato non c'è più niente poi da poter fare quindi facciamo questa operazione di ammorbidire il bordo in modo che poi quando lo andiamo a posizionare sul contenitore ci si adatta perfettamente non si rischia di sovrapporre le parti senza riuscire poi ad incastrare bene il coperchio sul vasetto quello che dobbiamo ottenere dunque questa forma come avrete visto landi essendo abbastanza rigido questa è una forma ancora non inamidata così come l'altra però si sostiene già abbastanza però ovviamente se noi non andiamo a dinamidare questa forma la perdiamoci e basta manovrarlo un po ovviamente la forma si perde come si fa a dinamidare ve l'ho fatto vedere già nel precedente tutorial ma ve lo faccio rivedere comunque perché ovviamente queste sono cose che più si vedono più si imparano io vado a dinamidare una forma per volta perché un solo contenitore come questo se ne avete due fate l'operazione in un'unica volta perché in un contenitore andiamo a posizionare il la parte inferiore del contenitore in un altro andiamo a posizionare il nostro coperchio oppure se ne trovate uno che sia proprio un filino più grande io lo faccio con due volte perché tanto non ho fretta di procedere questo è giusto un campione che vi volevo far vedere ma chiaramente se dovete fare tanti pezzi vi conviene scegliere una forma di barattolo di cui avete un certo numero di modo che una volta in cellofanati in una sola soluzione inamidate e fate asciugare quindi nell'arco di una sola notte avrete tutti i pezzi belli sistemati detto questo prendiamo un filino d'acqua e poi andiamo a prendere la colla vinilica di qualunque marca perché le colle viniliche alla fine sono tutte uguali e facciamo all'incirca un due parti di colla e una parte d'acqua ma in queste cose non bisogna essere troppo fiscali anche perché l'endi è un filo che già si in piedi da solo vi rendete conto da soli dalla composizione perché non deve essere troppo accuso vedete in questo caso secondo me è un po troppo accuso quindi vado a rimettere giù un po di colla ok una volta mescolato il nostro la nostra soluzione di acqua e colla prendiamo il contenitore quindi il levasetto io lo vado direttamente ad appoggiare sulla colla vedete e poi vado a appucciare all'interno c'era ancora da tagliare il filo vado appucciare all'interno poi dopo faccio questa operazione così vado semplicemente a premere in modo che la parte di sotto assorbe la colla che nel piattino e quest'altra la parte interna prenderà la colla dalla pressione che io faccio con il pennellino dobbiamo essere certi che la colla penetri nella trama del lavoro in maniera uniforme in modo che sia indurita in tutti i punti nella stessa maniera diversamente poi vi viene un punto innamidato un punto no se vi dovesse succedere niente paura come vi ho già suggerito nel precedente tutorial basta prendere il pennellino con un goccino di colla lasciarlo sul supporto dove l'abbiamo messo e andare a fare il ritocchino solo nel punto in cui riteniamo debba essere nuovamente indurito non si rifaccia l'operazione integralmente insomma sarebbe un po da matti a re immergerlo tutto laddove magari c'è una parte che si è realmente già bene indurita è un pezzettino magari no allora non c'è nulla di più attendibile delle mani io vado comunque a dare una strizzata vedete qua per esempio un punto che non ha preso molto bene quindi era un bel po di acqua e colla come vedete e si è assorbito tutto perché non sembra ma insomma c'è abbastanza filo ed eccoci qua una volta fatta l'operazione andiamo con le mani a vedere se tutte le parti sono ben inamidate dopodiché vedete siccome non c'è molta acqua se io lo provo a strizzare non viene giù niente perché c'era più colla che acqua a questo punto dopo aver ben passato ben chiuso praticamente sigillato con il con la pellicola io vado a sistemare il mio contenitore faccio attenzione ai bordi a centrare quindi la parte iniziale del lavoro al centro del barattolo in modo che non venga storto quindi se voi non centrate questo lo girate leggermente vi verrà il bordo irregolare quindi dipendente una volta che avete accertato che il centro e al proprio al centro del barattolo con le mani lo andate ad adattare via via poi con con un po di pazienza andiamo a sistemare il bordo affinché sia il più possibile dritto che non ci siano scalette o cose del genere che magari modellandolo con le mani qualche cosa può accadere se ritenete ancora a questo punto che ci possano essere magari ecco dei punti dove la colla non ha fatto presa ancora con il pennellino possiamo andare a fare il ritocco del del caso quindi lo lasciamo qui e poi andiamo a fare la stessa operazione sul coperchio una volta inamidati i pezzi questo è il risultato che si ottiene quindi ho indurito il contenitore questo qui vedete abbastanza già il filo andy si sostiene da solo poi inamidato è veramente un portento questo non si deforma per nessuna cosa al mondo e come vi dicevo la forma la dimensione del contenitore può essere variata aumentando i punti sotto quindi la procedura qualunque grandezza vogliate fare non cambia in maniera assoluta cambierà semplicemente il supporto sul quale andremo a fare dinamidatura con lo stesso procedimento sono andata a dinamidare anche il coperchio questo non è ancora perfettamente asciugato infatti farò terminare l'asciugatura proprio sul suo contenitore in modo che la forma sia assolutamente perfetta quindi già abbastanza secco però ancora manca qualcosina ed eventualmente decorata le decorazioni possono essere veramente moltissime da semplici nastri con dei punti luce sul intorno magari al pomello del coperchio così come fiori roselline piccoline piuttosto che magari delle farfalle da poter appoggiare sul bordo io ne stavo realizzando alcune tanto così a campione per vedere anche l'effetto guardate di un paio di farfalle semplicemente appoggiate sul coperchio quindi anche in questo caso visto che abbiamo lavorato soltanto sulla sulla base ma non abbiamo lavorato sul coperchio questo può essere appunto decorato e possiamo fare anche tante scatolette simili ognuna delle quali avrà poi sul coperchio magari una decorazione diversa spero come sempre che il mio tutorial vi sia di ispirazione per i vostri lavori come sempre mi postate se vi va i vostri i vostri lavori e ci vediamo al prossimo tutorial io Grazie a tutti.